Paolo Capone, segretario generale UGL, un'inaugurazione a Vasto importante, una nuova sede. Una giornata importante per noi e anche per la città di Vasto. Abbiamo aperto questa sede perché crediamo fermamente nel sindacato di prossimità, sindacato vicino ai lavoratori, vicino ai pensionati, vicino a tutti quelli che hanno bisogno di assistenza. Qui a Vasto la sede ancora non ce l'avevamo, l'abbiamo aperta oggi al centro di un distretto industriale importante che è da essa però che ci fa preoccupare. Il futuro dell'automotive metterà in discussione l'assetto anche occupazionale di questo territorio e su questa cosa continueremo, così come abbiamo già fatto, a mantenere alta la guardia per garantire ai lavoratori i livelli occupazionali e il rispetto di tutti quanti i diritti. C'è una situazione difficile in tutta quella che è la filiera dell'automotive. Da una parte l'ipotesi ormai definita del passaggio dai motori termici ai motori elettrici entro il 2035 che pone un problema da subito e dall'altra una grande crisi in Italia che è riferibile all'aumento dell'energia, all'aumento delle materie prime e che ha portato alla perdita per esempio all'automotive in Italia del 25% degli acquisti di automobili. Tutto questo contemporaneamente rischia di diventare una tempesta perfetta. Noi gli diremo, abbiamo già chiesto in alcune occasioni, ma continueremo a chiedere al governo un piano chiaro di industrializzazione del paese e di riconversione dove questo dovesse essere. Ma riconversione che vada su due fronti. Uno sul mantenimento delle filiere manufatturiere di cui noi siamo comunque non solo protagonisti essendo la seconda manifatturiera in Europa ma siamo anche capaci di fare prodotti di livello e ad alta qualità. Tutto questo non può essere perso perché ci sono scelte che vengono fuori dal nostro continente e dalla nostra nazione e che condizionano la vita di tutti quanti noi.